Guardate Scusatemi Presto Dite a Bob Un pennello da barba In camera mia Un uomo Un uomo di stato Sarà ucciso Assassinato A Londra Presto Molto presto E Michison non possono venire a pranzo domani Forse dovremmo avvertire anche gli altri Non dite niente di quanto avete scoperto O non rivedrete mai più vostra figlia Allora Dottor McKenna Sì il dottor McKenna chi parla Se direte una sola parola Su quanto lui Bernard vi ha rivelato prima di morire La vita di vostro figlio sarà in serio pericolo Ricordatelo Non una sola parola E' tutto finito Un momento E' tutto finito E' tutto finito E' tutta l'altro E' tutto finito E' tutto finito Grazie a tutti.